Bypass è un'eccellenza del teatro che Arzignano si tiene stretta. È un'eccellenza del teatro perché porta il teatro contemporaneo, un linguaggio contemporaneo alle agenti di oggi. È una proposta che può essere capita e che può interessare anche i giovani, non solo un pubblico più smaliziato che da anni partecipa alle rassegne teatrali. Bypass porta la contemporaneità negli occhi degli spettatori che vogliono dargli una chance. Bypass per noi è assolutamente un evento imperdibile per chi ama il teatro o per chi oggi vuole avvicinarsi al teatro, perché a dispetto della parola contemporaneo che può allontanare e spaventare, è in realtà un teatro più facile da assorbire ad un pubblico abituato ai social, ai mass media e a questa società che vive molto velocemente. Quindi il mio consiglio spassionato è, se volete passare una bella serata per scoprire un nuovo genere teatrale o avvicinarvi per la prima volta al teatro, date una chance a Bypass.